Sì, è un allenatore di una persona speciale, ovviamente, lui è molto perfezionista e quando le cose non va bene o non esce il lavoro sicuramente c'è un po' di frustrazione, per dirlo di qualcuna forma, ma io penso che è un allenatore speciale per questa squadra e sicuramente spero che stai tanti anni qua alla Lazio perché penso che può dare quel salto a questa squadra, ma è così, per desgraccia il calcio è così, quando si perde due o tre partite o non stai bene in classifica, in campionato, sembra che tutto è un dramma e penso che non è tanto così, è vero che adesso siamo, come ho detto prima, lontano dai primi in classifica, ma noi dobbiamo cercare di dare tutto in campo, essere concentrato, allenare forte tutti i giorni e dopo sicuramente i risultati vengono da noi perché, come te dico, io penso che abbiamo un livello, abbiamo una bella squadra, un bel allenatore e come te dico non penso che lui sia il problema in questo momento, stiamo parlando tutti tra di noi per essere uniti, per andare avanti e penso che ho fiducia in questa squadra e penso che andiamo avanti presto sicuro. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.